eccoci qua ragazzi ciao ciao a tutti belli brutti allora allora di che parliamo parliamo innanzitutto parliamo di due pubblicazioni uscite fresche fresche e voglio fare lo youtuber quello serio quello che è subito sul pezzo quindi ve li porto vi porto una recensione però vi vorrei portare anche un'altra cosa un argomento un po più ampia veduta e infatti perché ho messo quel titolo bonelli non ti curare di loro ma guarda e passa che è una frase che dice se non sbaglio virgilio a dante in un girone dell'inferno non guardare loro non ti preoccupare di loro vai avanti perché la stessa cosa che secondo me dovrebbe fare un pochino la bonelli cioè non stare troppo a sentire i vecchi lettori ma fare anche queste cose queste cose qui che magari un lettore classico potrebbe stoscere il naso ma che invece servono servono per prendere qualche lettore in più ma servono anche per chi già hai c'è tipo me che non mi reputo né un nuovo lettore né un per concezione un vecchio lettore un lettore medio che apprezza determinati prodotti della bonelli ma che non disdegna altri prodotti tipo questo a 4 euro e 90 in formato audace a colori poi lasciando sta la trama e tutto quanto la storia magari è figa magari fa schifo però proprio il prodotto in sé fumetto è una grande proposta 4 e 90 sì ok era già uscita in libreria ma fa stesso se non è così importante io senza anima li compro in libreria e se uscissero così li comprerò uguale libreria però alcune cose che magari non sono sicuro o che pure non non so così importanti da averle in un certo formato io me le recupero ben volentieri in questo formato e anche questo brossurato a 66 pagine stile comics con pagina ruvida colorazione così eccetera eccetera a 4 e 90 madonna se vale madonna se è bello poi appunto anche qua lasciando sta la storia perché perché purtroppo a volte secondo me ascolta troppo i vecchi lettori a bonelli come chiamate alcuni fossi lettori i classiconi che per carità portano cassa sì ok però sinceramente dovrebbero un po' smollare anche perché i lettori vecchi amanti del classico non possono star lì a smontare ogni iniziativa a boicottare eccetera eccetera perché anche io sono amante dei prodotti bonelliani però se domani la bonelli dovesse annunciare una linea manga senza togliere nessuna testata a me cara io sarei solo che contento se riesce a fare più soldi a prendere più pubblico eccetera eccetera cosa diversa sarebbe se dice bon chiudo dragonero chiudo nata never chiudo chiudo senza anima e mi butto sui manga allora lì mi girerebbero è chiaro però mi sembra a me che i lettori classici a volte a prescinde qualche novità la contestino a prescinde cerchino di parlare male e boicottare nuove iniziative solo perché non è roba classica è perché è roba che va lontana da loro ma io mi domando e dico ma se comunque la casa editrice mantiene quel prodotto che a te è caro se comunque la casa editrice e quel prodotto a te è caro lo mantiene cristallizzato come a te l'hai conosciuto e a te piace ma perché devi rompere se fa altre prove e a te non toglie niente al tuo prodotto che tu ami non toglie niente e loro fanno altre prove ma perché devi boicottare perché devi parlare male questo qui io non lo so veramente a volte noi diciamo tanto la Bonelli ma tanto sta alcune colpe alla Bonelli quanto alcune a noi lettori che ponendoci in un certo modo facciamo sì che la casa editrice reagisca di conseguenza questo è il mio pensiero un piccolo riflessione sfogo che volevo fare per appunto per l'avvento di questi due prodotti che lasciando sta le storie bello brutte veramente veramente una boccata d'aria fresca dalla Bonelli la linea audace serve Bonelli la linea audace serve 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 ok poi parliamo del fumetto del fumetto insomma in questione parliamo di K11 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 c'aveva vabbè qui anche dice un po' di cose nell'editoriale il suo creatore che è Matteo Casali soggetto è sceneggiatura i disegni non so se di tutti ma di questo sono di Davide Gianfelice colori bellissimi Stefania Acquaro copertina Emiliano Mammucari poi lettering Maria San Felice eccetera eccetera appunto il creatore Matteo Casali dice che ci sono state uscito proprio in pandemia quindi ci sono state problematiche eccetera eccetera e quindi magari la strada del K11 non ha fatto proprio non ha percorso tutta la strada che loro volevano si aspettavano io non l'ho presi in in formato insomma da libreria formato chiamiamolo così francese da libreria perché non ero sicuro della della storia già facevo altre mille robe quindi insomma il budget era quello e ho preferito prendere insomma senza anima mi interessava di più ho sentito delle interviste di 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 Masiero ho detto beh quando è a scenicola me lo accaparro subito e così ho fatto e devo dire che sinceramente i disegni adesso non mi ricordo benissimo quello da libreria ma i disegni in questo formato audace non perdono assolutamente vi dirò che forse neanche i disegni del senza anima perderebbero in questo formato perché perché l'audace è un formato veramente che si sposa benissimo per appunto rimpiccolire ma non sminuire quello che è il formato francese quindi senza anima capone eccetera eccetera anzi mi sbilancerò a dire l'editoriale cosmo falli così falli nel formato audace invece nel formato bonellide editoriale cosmo i i volumi che stampi dei diritti dei francesi perché in questo formato renderebbero renderebbero meglio veramente veramente meglio e sinceramente adesso non vorrei fare indagini del mercato ma non è che la spesa innanzitutto se tu me lo porti da bonellide a così comunque potresti anche aumentare un euro in più ma vedrai che il pubblico risponde cosmo il pubblico risponderà e quindi non credo sia una spesa per la cosmo la differenza tra a portarlo a questo è una spesa poi così proibitiva ecco ma dicevo si sposa benissimo e devo dire che la storia non è affatto male non è affatto male bei disegni bei colori la storia non è affatto male non è affatto pensavo fosse una cavolata invece per adesso il primo non mi è dispiaciuto affatto anzi mi ha dato molto spunti da pensare dicendo che farà poi questo qui andrà combatterà contro gli americani farà delle missioni la serie è solo tutta sugli sperimenti oppure farà delle missioni che potere ha perché ancora si è capito che potere ha e quindi mi ha lasciato tante domande che con la voglia di continuare e di leggere per vedere dove va a parare l'autore e quindi quando mi lascia con delle domande però delle domande diciamo da virgolette positive e la voglia di sapere come va a finire ha fatto uno dei suoi lavori e quindi sono molto contento vedere come va ecco tutt'altra cosa è invece questo Zombicide 1 di 4 allora questo Zombicide copertina bellissima di Alessio Moroni sceneggiatura Stefano Vietti soggetto Enoch Stefano Vietti da appunto un gioco di ruolo della come on mi è piaciuta la scelta del brossurato formato spillato americano comics americano i colori e i disegni soffighissimi su quello veramente complimenti a Moroni anche a cioè tutto veramente veramente disegni e colori stupendi qui come era successo per una o altre due serie la come on ha fatto questa collaborazione con la Bonelli per portare sul fumetto sul cartaceo alcune tematiche di loro giochi più famosi di ruolo per Zombicide Invader quindi un un antrofilone di giochi della camon che riguarda i zombie ma riguarda più mostri zombie mostri diciamo i buoni sono dei combattenti ma siamo nello spazio quindi è tutto un po' alla ricorda un po' Warhammer 40.000 Starcraft c'è un sacco di influenze quanto mi ricorda e mi è piaciuto molto scritto bene disegnato altrettanto colorato idem eccetera eccetera quindi mi è piaciuto molto questo qui mi sembrava anche molto molto tamarro quello questo mi sembrava anche disegnato benissimo ma sempre molto molto tamarro e vietti io li prendo insomma a volte per la fiducia essendo un grande fan di Dragonero e essendo un grande fan di vietti anche su Nathan Never eccetera eccetera l'ho preso ma pensavo sinceramente di trovare boh non pensavo beh il tamarro c'è la tamarragine che volevo trovarci c'è però sinceramente non mi ha dato quel qualcosa in più non mi ha dato quel quid in più mi è sembrato che gli autori hanno voluto fare bene il compitino passate mettere mi ne ha segnato ma non ho trovato niente di eccezionale tutto già un po' rivisto i personaggi magari quella della croce rossa che ha una specie dei coltelli qualche personaggio loro lo fanno bene i personaggi sono fatti fighi l'ambientazione è fatta figa per carità i dialoghi scorrono tutto quello che volete non è che è fatto male però non so è fatto talmente bene talmente da mestiere che perde quella sua forse unicità che perde quella sua cosa essenzialmente quando ho chiuso non mi ha lasciato niente niente da di cavolo voglio leggere il secondo mi è sembrata una cosa molto letta riletta vista e rivista quello forse è un po' anche la pecca di noi che leggiamo tanti fumetti che leggiamo tanti fumetti diversi che quindi a volte non è che ci accontentiamo così facilmente o ci stupiamo di certe cose così facilmente molti ho sentito ho visto l'hanno definita lettura d'accesso per me non è così perché sinceramente che vuol dire lettura d'accesso poi cioè io leggo leggo seduto posso leggere seduto successo ma posso leggere seduto su una panchina o seduto sul divano comunque leggo quindi non è che anzi nel mio caso la mattina se leggo successo sono pure più tranquillo che la sera sul divano quindi potrei leggere qualcosa che è più impegnativo meglio sul cesso che sul divano la sera però a parte quello io non mi sento non è bello cioè è fatto bene graficamente è fatto benissimo la storia scorre è fatta bene la storia i personaggi pure sono fatti bene ma sinceramente a me non mi ha dato qualcosa in più da di spendo 4 ore 90 per 4 numeri e diciamo aumento il budget del mese non non me l'ha data cosa che mi ha dato K11 sinceramente e non me l'aspettavo io pensavo di apprezzare più Zombicide K11 invece ho apprezzato più K11 non so se sono riuscito insomma a spiegarmi ecco ma questa è la sensazione che mi ha dato un prodotto ben fatto ma che non mi ha dato non mi ha dato emozioni non mi ha dato voglia di leggere il secondo non mi ha dato tutte queste sensazioni qui ecco detto questo io come sempre vi saluto vi ringrazio vi vi ringrazio dei commenti che lasciate dei like del supporto anche in questo caso ragazzi ditemi la vostra nei commenti insomma che ne pensate di tutte e due le serie sia di K11 che Zombicide vi rinnovo vi rinnovo l'invito a guardare lunedì sera fuori dai Balloon questa insomma format che abbiamo fatto con gli altri due cefi Viper e Igor dove insomma invitiamo altri youtuber inviteremo poi starete a vedere altri ospiti un po' più del settore lavorativo fumetto in vari ambiti per fare quattro chiacchiere ma soprattutto per tirargli fuori cose noi saremo un po' cercheremo di essere riverenti domande sfacciate e tirargli fuori insomma tutto quello che magari non vedete in altre interviste speriamo insomma di riuscirci tutto questo è chiaramente sempre in live quindi anche voi in chat potete fare domande eccetera eccetera sta andando molto bene vi ringrazio a nome anche degli altri e niente insomma seguiteci ogni lunedì ancora tutto luglio ci saremo agosto faremo una piccola pausa estiva e poi riprenderemo probabilmente a settembre detto questo beh scrivete se siete nuovi al mio canale eccetera eccetera grazie a tutti appuntamento al prossimo video